Amici Bellini, guardiamoci nell'anima, visto che sta succedendo un cataclisma, una vera e propria rivoluzione tra nuove positività, nuove negatività, nel senso che possono essere cose negative si parla di Insigne che già è fatta, si parla di Lozano che è così e si parla addirittura di Muriel vogliamo parlare di tutte queste cose sicuramente, ma voi datemi un 3-4 minuti di tempo perché alcuni di voi non c'erano all'epoca, quindi cominciamo E' un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori E mo' che si fa? No, perché Gartier ha vinto la Liga 1 e noi non siamo in Champions quindi non verrà Allegri, il Real ha perso la Liga e lui è il favorito, non verrà che facciamo Spalletti, Sarri secondo me Sarri non ci pensare proprio, Marietto, non ci pensare proprio un nome per me, io ti dico una cosa Pavlox, a me non mi interessa chi arriva, se arriva Allegri, se arriva Spalletti, se arriva Italiano o se arriva Juric, a me non mi interessa io comincio a guardare il ritiro precampionato cerco di capire come gioca, dopodiché alle prime sconfitte, quando diranno Juric out, quando diranno De Zerbi non sa fare la fase difensiva quando diranno Allegri solamente gestisce i campioni, o che Spalletti rovina lo spogliatoio o che Spalletti rovina lo spogliatoio, eccetera 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 di questo siamo diventati, questo siamo diventati, la rincorsa alla narrativa che deve distruggere un giocato, questa volta ancora prima di cominciare non è solo De Laurelis e Gattuso, è un ambiente schifosissimo in questa città, schifosissimo, perché certi giornalisti cavalcano, i portali riscrivono, gli amici degli amici l'avete ascoltato bene a Gattuso, Gerardo Marino ve l'ha fatto sentire, ecco perché Gerardo Marino non potrà mai essere assunto dal Napoli come social media manager perché fa vedere delle cose che ti fanno capire più di quello che esiste, che è sulla piazza non si può fare così in questa città, dobbiamo dare le mani, le chiavi in mano a un allenatore, dargli un progetto, ascoltarlo se ti chiede dei giocatori e farlo lavorare per due anni e mezzo, tre, senza attaccare alla prima difficoltà e dire che è un pescivendolo oppure che lo difendono a spadatratta, che ha gli amici eccetera eccetera noi andiamo indietro, non andiamo avanti, arriva Allegri, non andiamo avanti, andiamo indietro perché questo è il modo in cui il Napoli si sta gestendo, spesso dall'interno perché non credete che i giornalisti adesso sono la colpa di tutto se il Napoli non ferma, il Napoli è padrone, il Napoli è in grado se una cosa non gli andava bene, li fermavano a presci, non li facevano nemmeno entrare alcuni invece sono entrati, invece hanno avuto notizie, invece hanno avuto soffiate a volte anche false Gattuso caccia Elmas dall'allenamento Elmas che posta la storia dove abbraccia Gattuso a Stelvolturno blindata, silenzio stampa, non entra uno spillo però le notizie escono sempre De Laurentiis ha telefonato alla qualunque De Laurentiis è mai possibile che non è in grado di fare dei sondaggi senza farlo sapere l'ha detto a chiunque per far arrivare il messaggio per fare i sondaggi nell'ambiente è uno schifo assoluto non va bene così, non andiamo da nessuna parte sono tornate le milanesi abbiamo una squadra che possiamo c'è un posto che in questo momento è dell'Atalanta meritatamente perché l'Atalanta ha fatto un bel campionato dopo un inizio così e così ha fatto un bel campionato dopodiché c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è il Napoli queste tre squadre da Roma in giù fanno delle cose simpatiche a volte possono essere chiamate le eterne incompiute perché poi vengono meno eccetera eccetera quello è il posto allora o noi ci rendiamo conto che più di tanto non possiamo fare e se arriviamo quinti dobbiamo festeggiare festeggiare siamo arrivati in Europa League lasciando la Lazio molto lontano festeggiamola abbiamo fatto 15 punti più dell'anno scorso festeggiamola Zielischi è esploso Lozano ha fatto un ottimo campionato Fabian che era ucess improvvisamente di nuovo gli vogliono dare 60 milioni per Fabian grande Rachman insigne migliore stagione festeggiamo o Simen funziona festeggiamo invece no la narrativa parlerà di un fallimento la narrativa parlerà di un Napoli da scudetto che ha fallito perché Gattuso non è in grado di gestire la crisi legacy crisi una squadra senza attaccanti infortuni tutti nello stesso ruolo per lungo tempo devi gestire la crisi noi questo quinto posto lo dobbiamo festeggiare con l'amarezza siamo arrivati ad un rigore non dato siamo arrivati ad un rigore su Mertens netto non dato da poter festeggiare addirittura il terzo il quarto posto il secondo non lo so quei punti non mi interessa ci siamo capiti e con questo io penso che vi saluto perché siamo arrivati a 4 ore di live e se qualcuno vuole prendere stralci lo prendesse bene lo prendesse seriamente io festeggio più che altro devo capire se ho ancora una webcam o se devo scendere e devo andare a comprarmene una di domenica non sarà facile allora amici miei amiche mie passanti quelli che i lurcatori insomma chiunque sia capitato qui per caso per esempio Vincenzo Calce nuovo nuovissimo iscritto Salvatore mi aveva chiesto di salutarlo e lo faccio lasciate un like se vi capita perché i like sono gratis e grazie a tutti quelli che stanno passando sul fluido.net dove sta la marchetta che avevo fatto che avevo preparato vedi vedi così è fluido.net ci sono le tazze ci sono cose carine magliette eccetera eccetera sì allora pare che sia fatta cioè nel senso le notizie stanno diventando le notizie i retweet i blog eccetera eccetera stanno diventando molto insistenti si parla di cifre tra i 9 e gli 11 qualcuno ha parlato di 9 qualcuno ha parlato degli 11 poi bisogna vedere bene le tasse perché sì tu vai in Canada però poi giochi in America quindi stai stai lavorando in America devi vedere un pochino con le tasse come devi fare Lorenzo ti consiglio di prendere un buon amministratore americano che sappia bene come fare le cose se è così mettiamoci sempre il se davanti parliamo sempre di parrebbe perché non è detto e poi la domanda mia è succede subito perché questa poi sarebbe la domanda interessante da fare perché se succede subito allora il Napoli potrebbe incassare qualcosina e questo qualcosina potrebbe essere reinvestito subito però sul mercato e quindi rimbalza la notizia di Muriel si era parlato anche del Milan per Muriel ora mi sembrava strano e continuo a sembrarmi strano poi dopo leggo bene cerco le età dei giocatori e vedo che Bogà ha 24 anni ultime stagioni non esaltanti però ha 24 anni e Muriel ne ha 30 quindi mi dà l'impressione che l'Atalanta che è quello io per questo vi ho fatto vedere l'inizio di quel video là che era Napoli-Verona la live tutta completa di me che facevo la reaction e la telecronaca della partita e il finale quel tragicomico finale l'Atalanta che sembra guardare più al futuro che non in un immediato che poi si può spegnere stanno cercando di ringiovanire se ti vendi Muriel e prendi Bogà vuol dire che hai tolto 6 anni all'attacco perché hanno un attacco un pochino usurato e si sa che all'Atalanta spendono tutto e può essere pure che quando poi vanno via dall'Atalanta non funzionano sempre questa teniamola presente questa cosa qua perché molti e la prima reazione è se va via Insigne ed entra a Muriel ci andiamo bene noi va bene può essere vediamo come si fa vediamo come entra all'interno di uno spogliatoio vediamo se queste cose poi non portano strascichi e per questo io ho dovuto postare quell'inizio perché l'ambiente perché è la narrativa perché perché noi dobbiamo andare nel profondo non basta non basta dire il Napoli è forte battiamolo spese contro la salaritana facciamo tre punti facciamo le nostre tabelle e facciamo ipotesi così no noi dobbiamo andare nel profondo ragazzi dobbiamo andare nel profondo e capire che cosa e questa è una domanda che vi faccio da due anni cosa vogliamo fare da grandi ci dobbiamo ragionare bene dobbiamo capire un insigne che resta da tesserato al Toronto come resta se da tutto fino alla fine se non si tira la gamba indietro non credo o almeno non consapevolmente però lo sai bene no cosa succede se un giocatore a Napoli oltretutto un giocatore che ha sempre spaccato la piazza poi conferma magari prestazioni non esaltanti come le ultime e tu è ovvio che dici oh ig già tiene la capa e non ti vuoi infortunare perché ti devi andare a prendere i soldi là la riflessione viene naturale nessuna squadra nessuna squadra in Europa ha voluto insigne perché andare lì significa non dico mettere fine alla carriera ma chi va in America significa che va a fare una scelta economica un po' come Amsic ecco perché il collegamento che vi ho fatto qualche giorno fa insigne come Amsic che decise non voglio andare da nessuna parte vado in Cina poi quella cosa lì anche per situazioni cinesi che sappiamo bene non è funzionata però aveva ancora voglia di giocare è andato in un campionato magari lo vince pure un campionato minore e Amsic lo meriterebbe tra l'altro sono uscite ieri degli stralci insomma hanno ripostato degli stralci di un libro di Amsic dove parla di un litigio con Radosevic un passaggio secondo me non banale perché noi abbiamo sempre parlato del leader silenzioso che non diceva mai niente però quando c'era da farsi rispettare Amsic lo ha preso a brutto muso a muso duro a corto muso se vogliamo e ha stabilito la gerarchia nello spogliatoio e a quanto pare anche i compagni hanno detto faccelo cazzo Marek è tosto è lì guadagni poi la leadership nello spogliatoio e te la guadagni non è che la chiedi la prendi la prendi quando ce l'hai e quindi noi non sappiamo che tipo di dinamiche ci stanno all'interno dello spogliatoio adesso con Insigne perché Amsic era capitano Insigne è capitano Insigne è quello là che squadra rimmerda contro il Sassuolo ricordate Insigne è quello che sostituito con Mario Rui dice a Mario Rui non facciamoci gol da solo ecco chissà come è visto dalla totalità del gruppo del Napoli Insigne se fa piacere se comunque lo coccolano perché sai che coccolandolo gioca meglio e quindi anche per il bene della squadra cerchi di coccolartelo ma alla fine poi non è detto che ci sia una stima infinita da parte di tutti si può ipotizzare ma sono ipotesi quello che però dobbiamo chiederci è se questo poi porterà il Napoli a migliorare o no mi sembra evidente se le cose andranno così che aveva ragione De Laurenti a non fare offerte clamorose che poi non rispecchiavano il reale effettivo valore del giocatore Insigne è un buon giocatore Insigne non va messo in discussione i giocatori serie C sono stronzate è un buon giocatore che però se tu chiedi a un Liverpool a un Bayern di Monaco a un Barcellona a un Tottenham a un Newcastle o anche a una Lazio e a una Roma probabilmente le loro fish le puntano su qualcun altro magari meno musone meno emotivo perché si è sempre detto questa cosa qua di Insigne un po' più strutturato fisicamente un po' più decisivo sulle partite di un calcio che è cambiato e quindi ci devi mettere quello quello e quello è Maria Stella di conseguenza io credo che Insigne si può togliere lo sfizio se è sempre se si può togliere lo sfizio di andare di farsi questa esperienza economicamente gratificante può andare in giro a dire ragazzi vada tanto a me mi hanno offerto 10 milioni a voi cosa a voi niente quindi vuol dire che io li valgo 10 milioni devi vedere dove li vai a fare probabilmente la nazionale non la mette in discussione anche perché ci sono poche alternative ad Insigne in questa nazionale in questo periodo storico questo si vedrà con il futuro se il Napoli piazza Muriel non è male nell'immediato vediamo come sta perché ovviamente quando un giocatore lascia l'Atalanta vi ripeto è sempre un'incognita però io insisto con Lozano anche positivo è chiamata l'Asle e vabbè c'ho capito però siamo siamo contatissimi e va piazzato a un colpo in difesa io purtroppo insisto poi in attacco tu vedi quello che vuoi fare vuoi rimanere con Insigne fino a giugno lo puoi fare vuoi fare vuoi tirare la carretta e aspettare lo puoi fare certo per un mese non avrai un As adesso non hai neanche Lozano devi veramente puntare tutto su Elmas e sperare che ce la faccia a postilla di questo di questo discorso qua voi fate caso che chiamano le nazionali africane chiamano Koulibaly da infortunato chiamano Osimen da infortunatissimo perché Osimen deve fare gli ultimi accertamenti e il medico fu chiaro dice qua se si riapre tutto ed è gravissimo e non si può fare la biologia non è tifosa dice giustamente il medico ma Goulam no non se lo chiamano come mai Goulam è pronto è una riflessione che facevo anche con Guido Gentile allora vuol dire che non è pronto e vuol dire che è il portachiavi è il portafortuna del Napoli non è pronto assolutamente in conseguenza siamo strettissimi non abbiamo alternative in panchina dobbiamo fare un miracolo e speriamo di farlo perché i miracoli accadono però il discorso che vi facevo l'anno scorso vale anche quest'anno vista la situazione visto l'ambiente visto le vicissitudini la sfortuna certe scelte perché poi scegliere tutti i giocatori africani è una scelta è una scelta dettata dalla necessità dall'opportunità dalle difficoltà economiche anghissate lo puoi permettere e te lo danno proprio perché è africano anche altrimenti tu vai a prenderti uno svizzero vai a prenderti uno svizzero che non ti deve partire per la coppa d'africa quella poi è la differenza e bisogna bisogna essere chiari in conseguenza anche certe scelte ci portano a una situazione di difficoltà costante difficoltà che abbiamo adesso e difficoltà che possiamo avere ogni due anni se la coppa d'africa la vogliono fare ogni due anni ogni quattro anni è una scelta quindi noi esultiamo se arriviamo quinti perché l'Atalanta sembra che non voglia mollarlo quel posto ai momenti si sta risalendo piano piano occhio aggiuntoli occhio aggiuntoli perché gli uccellini me lo dicono da tempi non sospetti quindi noi se arriviamo quinti e riusciamo a tenerci alle spalle la Lazio di Sarri e la Roma di Murigno noi dobbiamo esultare perché ve le ricordate quei campionati dove magari il Sassuolo comincia bene e fa 4-5 vittorie inaspettate e i giornalisti si divertono ma allora qualcosa in più no? della salvezza vi giocate lo scudetto sorrisini cosa no? o la Sampdoria magari che inizia un buon campionato ah dai che grande che grande inizio vi giocate l'Europa volete andare in Champions probabilmente noi stiamo entrando in quella dimensione lì che è una dimensione dignitosissima se vai a vedere la storia del calzonapo lo capiamo lo accettiamo tifiamo lo stesso disertiamo questa poi è una scelta nostra frattempo noi per il quinto posto che ci permette di andare in Europa e magari vediamo di fare belle figure in Europa perché siamo andati avanti noi dobbiamo welcomarlo dobbiamo benvenutarlo un quinto posto sempre sempre anche se inizi benissimo e c'hai velleità di scudetto qualcuno io mai mai ho pensato allo scudetto mai dobbiamo dire bene buon quinto posto non era facile neanche quest'anno sono tornate tutte le avversarie buon quinto posto bravo Napoli nessun fallimento la squadra più forte del mondo dovevamo vincere lo scudetto spalletti out non si racconta così il calcio da New York Valerio Fluido è tutto è un saluto è un abbraccio alla famiglia Maradona che perde anche Ugo in questa giornata che diventa ancora più triste giovanissimo Ugo Maradona un abbraccio va a incontrare il fratello forza Napoli sempre ciao sono Saveria Solida se arriviamo a 15.000 iscritti su Youtube è una cosa di cortesia ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram è Valerio Fluido fa tutte queste cose credi sei iscritto pure a TikTok nienti più dai basta basta sei cringe quante cose